Il prossimo 29 luglio Teramo sarà il centro nevralgico per il settore automotive abruzzese ospitando il tavolo regionale convocato dall'assessore regionale all'attività produttive Tiziana Magnacca. L'incontro vedrà la partecipazione di istituzioni, sindacati, università, associazioni e organizzazioni di categoria tutti riuniti per discutere le sfide e le opportunità del comparto. Questo evento segue il precedente incontro del 3 luglio sempre a Teramo dove si è analizzata la situazione del settore automotive provinciale. Attualmente il settore impiega circa 3.500 persone tra lavoratori diretti indotto rappresentando una componente significativa dell'economia locale. Ma il prossimo incontro sta però suscitando insoddisfazione da parte dei sindacati territoriali. Sì, un tavolo regionale, un tavolo mongo rispetto a come è quello che immaginavamo noi a fronte dell'incontro che abbiamo avuto in comune il 3 luglio dove noi abbiamo discusso su un documento già stilato dalle parti sociali che doveva solo essere firmato da tutti gli attori di quel tavolo compreso l'assessore Magnacca e questo documento non verrà portato a quel tavolo perché a quel tavolo non parteciperemo noi territoriali come è giusto che sia perché è un tavolo prettamente regionale dove fanno parte i nostri vertici ma a quel tavolo non arriverà mai quel documento che ci eravamo impegnati a firmare. Questa non è una questione di campanilismo, è una questione di pragmatismo perché noi abbiamo messo ostero su bianco le priorità del Terramano e questo documento, come ci eravamo prospettati, non è stato firmato ancora. Quello doveva essere firmato da tutti gli attori presenti ancora non avviene. Durante il precedente incontro a Terramo era stato presentato un documento contenente i punti cruciali per il sostegno immediato del comparto e per garantire un futuro più solido. Le parti sociali avevano sottolineato l'importanza di azioni mirate per affrontare le sfide attuali e promuovere la crescita del settore. A partire dalle infrastrutture, da tutto ciò che riguarda la zona industriale di Villa Zaccheo, i trasporti, persino gli asili nido, le mamme lavoratrici, le asili nido con flessibilità di orari, il trasporto pubblico come dicevo prima, rivendicare pure la parte dell'ingegneria meccanica a Terramo, non abbiamo un'ingegneria meccanica a Terramo, l'abbiamo solo all'Aquila, tutte queste cose che possono, la formazione, queste cose che possono apportare un valore aggiunto già a quello che abbiamo. La dimostrazione ultima è stata quella della GLM che è stata acquisita da un gruppo austriaco, un gruppo solido, quindi vuol dire che il nostro territorio è appetibile, basta lavorarci tutti insieme per creare ancora di più occupazione. Grazie.